no io preferivo il gamma preferisci quello a te? eh? lei preferisci quello? a me piace quello era così o lei rifatta? eh? no è d'accordo non c'ho ancora guardato ma è una inquisata ma anche perché poi dà c'è io me la dici eh? soltanto il motore lei mi costa 4 metri eh le armiste quello ma anche l'originale di armiste sai cosa ha detto? e si 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 ma dopo l'altro sento il carine sono tutti vomi sono tutti... vomi oi sono stati in plastica oi sono stati adattati tu lo vanno a fare nera c'è un'esercizio c'è un'esercizio io l'ho detto tre del borde ma penso di sì tanto ci sono artigianali vedi? vedi che c'ha c'ha la quella che c'ha la raffreddata questa frana la fa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti